bentornati amici partiti una fallout cazzo l'armatura atomica a cavallo l'ho lasciato di l'anno e qui la storia sull'isola è lunga la storia sull'isola dlc sarà cento alla fine il gioco completo è assolutamente infinito d'endolci 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 E' meglio però fare un media viaggio così vorrei farlo sicuramente torniamo ad accadere meglio tornare lì e ricompleto questa missione qua vedo se non vedo le altre Oh Oh Grazie. Non lo potevamo fare un passaggio qua, però è maledetto. Grazie. 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 No Ok. devo fare la strada normale devo fare la strada di là c'è un po' che c'è c'è un po' che c'è non c'è un po' che c'è Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Dobbiamo portarla a testa del sintetico Accogliere eventualmente Grazie a tutti Considerati i rischi che ho corso per trovare In effetti non hai tutti i torti Mi spiace Anche a me Grazie ancora E poi questo va bene Dunque perchiamo Perchiamo un attimo Vediamo un po' Allora scienza mi interessa Sì forse facciamo a livello 4 Almeno ho la possibilità di Costruire Sì? 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 Allora Adesso Mi piace un po' di più 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 e ora ecco sei stato fortunato credo di sì continua a ripeterni Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Puoi comprare qualcosa o no? Non è molto. Puoi comprare qualcosa? 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 Grazie a tutti. Mi ricordo se avevo già spazzolato. Grazie a tutti. 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 Adesso, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' bello però Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' di roba 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 Ok Grazie con 200 anni anno alla decende l'altro allora dunque a questo punto il fatto che sta avvenendo buio darvi da dare qui il rischio grosso Rayburn point chi lo sa se fosse un insediamento ci andrei però non sono sicuro torno indietro vai cattiamoci una mossa perchè di notte poi è un casino merda cassa basta sì Grazie a tutti Eh mi sa che di notte vengono fuori Molto più che di giorno Qua diciamo la luce Vabbè sono da spazio No Evitare Vabbè Adesso perchè Vedo un cazzo Io ho anche Questa è la spazio Questa è la spazio Che postacio Mamma mia Questa è la spazio Questa è la spazio Niente Niente Si. In allarme, ormai. Non so, forse devo portare tutto da di là di qua, perchè... Devo mettere qualche luce, perchè... E' che... Devo portare... Non so, forse devo portare tutto da di là di qua, perchè... Devo portare tutto da di là di qua, perchè... Devo mettere l'antenna qua... Ah, però non lo lascia mai essere... La prima l'antenna... ... neanche parca puttana, allora come devo fare per staccare? ah, qua ce n'è uno in allarme però, come mai? allora, mettiamo sta dietro ancora un po' i coglioni, ma è un po' i coglioni 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 non mi ha fatto è un po' i coglioni è un po' i coglioni è un po' i coglioni e non ho proprio comunque lo sapevano è una lungenda allarme Grazie. Bene, otteniamo un attimo la nostra... Grazie. 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 Così è un po' meglio, eh? Stavo pensando, vuole guardare il posto di... L'unica cosa è che poi... Se faccio girare questo, le volte mi rimane scoperto, però... Se faccio girare queste cose... Grazie a tutti. 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 Poi la prossima volta vediamo di avventurarci fin là in fondo. Guarda quanto roba devo mangiare. Non ho detto sei ben nutrito. Ehi. Per fortuna è finita. Puoi andare subito. Vabbè. Vabbè ci andiamo un giorno dopo. Va bene dai ragazzi. Saluto qua. Così. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.